Beppe Grillo, ciao! Ormai siete congelati. Ciao, avete... No, no. Siete ancora tutti qua, è una cosa. Siamo onesti, buoni, infredoliti. Siamo qua a fare una manifestazione così per dimostrare. Non dovrebbero neanche esistere queste manifestazioni per dimostrare che cosa? Che vogliamo essere normali, mica così. Poi onestà, onestà, onestà. Io vi devo fare una confidenza, io non sono una persona onesta. No, no, no. Ma onesta dipende che cosa intendiamo. Perché l'onestà è qualcosa che c'hai dentro, non ce l'hai. Io dicevo che era un tic, è un tic. Io sono diventato onesto per caso, non per merito, ve lo giuro. Ho visto mio padre, che era uno che stringeva le mani, faceva i contratti così, era un artigiano, pagava, usciva con mia mamma, non aveva amanti, non giocava ad azzardo, stava con i figli. Ho visto tre o quattro cose di questo vecchio che mi ha tirato su e probabilmente queste cose mi sono rimaste dentro e le sto trasmettendo con la mia vita, con i miei pensieri e i miei figli. Non faccio niente per essere onesto, non ho nessun merito. O lo sei così, per sbaglio anche. Ma la cosa non è di uno che ruba, o uno ruba meno, ruba di più, un po' rubacchiamo tutti, dai tu con quella faccia lì sarai mica perfetto. Un pochino ci difendiamo. Ma non è questo. Quello che succede adesso è la mistificazione delle parole, delle parole buone, oneste, libertà, sta roba qui, democrazia. E' una mistificazione che deriva da una disonestà intellettuale. E' questa qui che dobbiamo combattere. E' la disonestà intellettuale che rovina i rapporti delle persone, tra le persone. Perché ci sono milioni di persone, ci sono ancora milioni di persone che alcune parole hanno ancora quei significati, non ce l'hanno più. Oggi abbiamo un buffoncello qui che dobbiamo seguire, che ci ricatta, fa i nomi, non fa i nomi. Uno che non fa neanche i nomi al suo partito, viene da noi e dici, fai i nomi, dici i nomi, e allora tu non accetti. Ma andate a fare in culo. Bene. Scusate. Andrà in onda solo questa frase qua, il solito grillo. Ma voglio dire, voglio dire, non ci stiamo più. Questa è schizofrenia, è parapsicologia. Non è politica, non c'entra niente. Non c'entra niente perché ormai la verità non c'è. O sono i fatti falsi, o la verità non c'è più. Allora ce la immaginiamo, ce la immaginiamo e abbiamo la nostra verità. Abbiamo la nostra verità e ce la costruiamo lì perché non c'è altro. È come quando fai una dieta, che non riesci a dimagrire pur facendo la dieta e dai colpa alla dieta. La verità non c'è, te la devi immaginare. La verità è la tua fantasia quando fai dell'autoerotismo, che pensi delle cose impossibili e più sono impossibili, più ti ecciti. E' questa, che cos'è la verità, cos'è la libertà, la democrazia. Alcuni parlano di democrazia intendendo qualcosa, con qualcuno che invece la democrazia intende un'altra cosa. La democrazia è mettersi in un opposto, questo nazareno, il nazareno, il patto del nazareno. E cos'è il nazareno? Vanno lì con un nanetto di plastica, pluriindagato e condannato, uno che non può votare. Tu fai una società con un partito dove il suo fondatore, De Lutri, ha preso nove anni per l'associazione mafiosa e il suo presidente è stato mandato via da noi, dal Senato, e ce l'abbiamo come orgoglio questa cosa qui. Ma basta! Ma basta! E allora parole come democrazia riforme, noi siamo contro le riforme, siamo orgogliosi di essere contro quelle riforme perché è una parola buona, che è una trappola. Perché fare una TAV oppure mettere che puoi evadere fino al 3% del tuo fatturato, se evadere fino al 3% del fatturato è una riforma, noi non ci stiamo a votare una riforma così, siamo contro i riformatari per natura. E allora cosa sta succedendo? Alla quarta votazione noi proporremo questo, sarà tutta una manfrina, non una manfrina. Voi i nomi, i nomi da noi, i nomi di questo. Questo è il presidente della Repubblica. Che cosa? Quale Repubblica? Quale presidente? Quale Parlamento? Cos'è il Parlamento? Non c'è più niente. E allora siamo qui ancora noi a gridarcela, a raccontarcela, sempre magari una piazza bellissima, piena. Ma io, Dio mio, qui dobbiamo prendere qualche decisione drastica, molto drastica. E siamo qua, che passiamo tutto, viene filtrato tutto attraverso i mezzi di comunicazione, tutto attraverso, siamo filtrati anche in questa piazza meravigliosa, quello che abbiamo detto. Io non sono qui a raccontarvi più niente, sanno molto di più i parlamentari, gli attivisti, siamo un popolo molto più informato di prima. Ma io sentire, in un paese, sentivo Ciotti l'altro giorno, parlavamo così un po' di ragazze. No, lui c'è dentro la miseria, questa miseria che non è neanche povertà, è miseria, è diversa la miseria dalla povertà. Vai a dire, Dio vivo un po' in campagna, vai a dire a un pensionato che guadagna, c'ha 600 euro di pensione, c'ha l'orto, c'ha il camino, si scalda con la legna. Vai a dire che è povero, lui non si sente povero. Ci sono cose, sono significati diversi dalla miseria di una città alla povertà di una campagna. Abbiamo dei concetti diversi, ognuno parla della propria miseria, della propria povertà. Ma parlavamo, e le cifre sono straordinarie, incredibili, 10 milioni di famiglie sotto la soglia di povertà, quasi 25 milioni di persone che non ce la fanno. E noi stiamo qui a vivere così, ci stiamo abituando a questo. Ci stiamo abituando. Ci stiamo abituando alla disgrazia, ci stiamo abituando alle morti in diretta, ci stiamo abituando a questa informazione che disinforma, ci stiamo abituando alla bruttezza, alla miseria, alla morte, a qualsiasi cosa. Ci stiamo abituando, e questo è il grande pericolo nostro, non ci fa più effetto niente. Siamo lì, guardiamo, giriamo, ci facciamo adunate, grandi adunate, e loro lavorano lì dentro, e hanno già deciso quale sarà il futuro per sette anni di questo paese. Come vada vada io non lo so, ma io so che queste cose non le accetterò più. Costi quello che costi. Quindi io non pretendo che seguiate nessuno. Abbiamo una sottocultura, milioni di persone che sono quasi analfabeti, è un paese che si sta andando così sotto i nostri occhi. Possiamo vivere così? Io potrei vivere benissimo. Mi sono risparmiato i soldi in 40 anni di lavoro, potrei vivere benissimo. Chi me lo fa fare? È la solita domanda che dicono Grillo, intanto non c'è niente da fare. Noi abbiamo fatto un miracolo in questo paese, un miracolo. E se non fosse stato per un presidente che ha lavorato contro la democrazia e la libertà di questo paese. Saremo noi oggi a governare le macerie di questo paese. L'euro, non euro, l'Europa, non significa nulla. Un'Europa dove su 450 milioni di persone, 250 milioni non vanno a votare. Non significa nulla. Non significa più niente. Bisogna ripensare. Un pensiero di ripensare vuol dire rimettersi lì. Noi siamo un piano B di emergenza. Se no, non ce l'avrebbe fatto nessuno. Non ve l'avrebbe fatto nessuno stare qui cinque ore al freddo. Siete stati cinque ore qua sotto e si vede dalle facce trapelate, travisate. Lui che mi guarda è un pensiero. Lui cos'è? Si muove, si muove. Bene. E allora c'è qualcosa che capiamo che non va. Non sappiamo come, come, cosa fare, cosa non fare. Le piazze sono finite. I palchi sono finiti. Le televisioni, andiamo in televisione, Grillo vai in televisione, Grillo vai da Vespa, vai da questi che strisciano per non inciampare. Vai da questi. Io non so come andrà a finire, non so come andrà a finire. Non so come dovremo fare se rimanere duri e puri e onesti. Non so se dovremo rimanere proprio duri e puri e onesti. Forse dovremo sporcarci anche noi di merda. Forse, non lo so. Ah, ah, ah. Allora siamo d'accordo. E allora andiamo. Andiamo, andiamo, firmiamo il referendum. Prendiamo le firme. Andiamo avanti. Faremo il possibile. Noi abbiamo evitato, fino a oggi abbiamo evitato, che in Italia ci fosse veramente dei disordini sociali. Grazie al movimento abbiamo fatto da cuscinetto. Abbiamo fatto da cuscinetto perché, li avete visti, i violenti, che siamo noi i violenti. Siamo noi. Ci hanno definito gli eversori, gli eversori. Noi dobbiamo parlare a bassa voce, con luci basse. Non dare nell'occhio. Gli onesti, oggi l'onesto, è terribile, quasi ti vergogno. Io a volte nelle discussioni, magari penso in qualche discussione con gli amici, quelli che mi sono rimasti. Perché ogni tanto ti giochi anche le amicizie. E dovete anche tirare un po' fuori i coglioni, cari signori, perché bisogna, è un cambiamento. E' un cambiamento, tanto non ti serviranno più quei coglioni lì, se li lasci nascosti. E allora? E allora? Questa è stata una grande manifestazione organizzata dai parlamentari, dagli attivisti. Organizzata con 60 mila euro, vanno raccolto. 17 mila, 17 euro a testa di bonifico, hanno fatto la media a 17 euro. La cosa fantastica che continuiamo a non avere soldi. Noi che non vogliamo i soldi, i soldi li troviamo. Loro, loro che vogliono i soldi, non glieli dà nessuno. Anzi, sono costretti a pagare i cinesi, i marocchini, per portarli a votare. Ma vai, ma vai, ma vai, ma vai, ma vai, ma dai, ma dai, su, anche dal punto di vista, anche dal punto di vista, io sono vecchio. No, non è più Beppe, non è più Beppe, non è più Beppe, non è più Beppe, non è più Grillo, non è più questo. Dobbiamo passare alla fase 2, fase 3, a un'altra fase di pensiero. Ognuno di noi, ognuno di voi diventa Beppe Grillo. Adesso siete tutti Beppini, Grillini, siete tutti. Oggi avete sentito delle persone che lavorano, che combattono, che si sono diminuiti lo stipendio. Solite cose ce le stiamo raccontando di nuovo tra noi, benissimo. Ma quelli che ci sentono a casa adesso, noi siamo in diretta, su qualche televisione, per una questione commerciale, non per una questione di democrazia. Noi li alziamo, li ascolti e lo sponsor paga quei giornalisti che poi deviano il nostro principio e le nostre idee. Funziona così. Siamo in diretta sulla Sette, siamo in diretta un pezzettino sulla Rai, non so dove saremo ancora in diretta, ma loro si servono di noi, si servono di noi per non morire. Qui il problema è che adesso con queste manovre finanziarie, che pochissimi capiscono, perché quando parli di LTRO, quando parli di MTO, quando parli di sigle inconcepibili, fiscal compact, la gente non capisce, ma è loro, è il loro scopo non farci capire. La complessità è evoluta, perché più è complessa la situazione, più tu non sai che punti di riferimento prendere. Daranno mille miliardi alle banche, la BCE, ma le banche, poi risponderanno le banche nazionali. E voi pensate che questi soldi stampati dalla BCE, che vanno attraverso le banche, poi vanno a finanziare le famiglie, le piccole imprese, le medie imprese. Ma è chiaro perché? Perché investire dei soldi, non le investi nel lavoro e nella produzione e nelle persone, le investi nella finanza. Se vai a vedere la banca più grossa che c'è, una delle più importanti, la Deutsche Bank, la Deutsche Bank è quella che è dentro la BCE, la BCE è dentro la Deutsche e la Bundesbank. 147 banche sono in cima e comandano 32.000 multinazionali nel mondo, sono intrecci. Si apre il bilancio della Deutsche Bank e vai a vedere tra le loro attività, cioè i loro investimenti, hanno 70.000 miliardi di euro investiti in derivati e in hedge fund. Non gli interessa l'economia reale. Qui dobbiamo fare una cosa immediata. Ci sono i banchetti da andare a firmare. Per favore, non sono mai stato così convinto. Ve lo dice un buffone. Ve lo dice uno che non ha mai fatto la bocconi. Ve lo dice un pagliaccio di natura. Abbiamo, dobbiamo andarcene immediatamente fuori dall'euro, riprenderci la sovranità. Partiamo da lì. Ci abbiamo provato. Abbiamo fatto come Shiriza. Abbiamo fatto come Sipras. Abbiamo fatto come gli spagnoli. Andiamo lì e diciamo stiamo nell'euro e discutiamo il debito. Volevamo fare così. Abbiamo portato sette punti. L'unico movimento politico che si è candidato all'europea con sette punti. E se ve li ricordate, sei erano condivisione del debito con l'eurobond. Cioè, un'unione deve condividere i debiti, non solo i crediti. Anzi, soprattutto i debiti. Due, via il fiscal compact. Questa gente qua andrebbe processata con un piccolo processino. Come dicono dei luminari. Processati perché hanno modificato i trattati, tutti i trattati con i regolamenti. Andrevano messi sotto processo tutti i ministri delle finanze nostre e i ministri messi lì i capi commissario dell'Unione Europea dal 99 a oggi. Dovrebbero essere processati e messi in galera perché hanno modificato dei trattati. Articolo 3 del fiscal compact. Non dice che dobbiamo mettere il pareggio in bilancio in Costituzione. Perché se ce l'abbiamo in Costituzione siamo bloccati. Il nostro sistema fiscale è bloccato. Non puoi fare investimenti. I comuni hanno i soldi ma non possono spenderli. devono tagliare i servizi e tagliare orizzontalmente la sanità, le pensioni. Stanno già lavorando su questo. Stanno già con l'informazione. L'informazione comincia a dire i vigili di Roma sono dei pezzi di merda. Tutti i vigili vanno a scioperi. La gente comincia a odiare i vigili. È una tecnica perfetta perché poi quando ne faranno fuori la metà la gente sarà contenta perché erano quelli che scioperavano. E invece sono palle. Sono palle. Va bene? Cominceranno con le pensioni. Cominceranno dagli stipendi pubblici, passeranno alle pensioni e poi passeranno alla sanità. Guardate che semplice. Passeranno al terrorismo, al terrore, alla paura per portare qui il Patriot Act. E quando ci saranno delle leggi che se bruci un cassonetto fai sei anni di galera o se bruci un trattore fai vent'anni in galera. Allora è lì che ci saremmo giocati un pezzo della libertà dei nostri nipoti e dei nostri figli. Questo non lo possiamo permettere. Allora io basta. Adesso dovete fare una cosa. Andare e spargere quello che avete sentito a parte il freddo stasera. Andate dai vostri nipoti, abbracciateli e diteli ai vostri nipoti. Non ti preoccupare per il futuro. Non ce l'hai. Se stai qua fermo. No. Dobbiamo lasciarci. Invito tutti quelli che hanno parlato sul palco. Vi invito su perché è a voi che va l'applauso specialmente a Di Battista, un guerrigliero. A Di Maio, un politico straordinario. Di Maio è proprio la politica perfetta. Piace ai nonni, alle mamme, alle ragazze, ai bambini. È un uomo che se lo metti in un angolo e nell'angolo opposto dopo cinque secondi. È fantastico. Io sono orgoglioso, orgoglioso, felice di aver contribuito a far arrivare queste persone dove sono arrivate. E dovete essere felici con me perché noi non ci rassegniamo, non ci rassegneremo mai e non vogliamo più speranza. Non dobbiamo più sperare in niente. Vogliamo avere subito una vita diversa da quella che ci stanno proponendo questi quattro imbecilli qua, che sono quattro imbecilli. Bambocci. Ciao a tutti, grazie. Ciao a tutti.